Allora, Marco Cusimano, Italian Throwdown, qua c'è il rower dove cambiamo le units a kilocal, sperando che non si spenga, se per caso ti spegni vuoi lo riaccendo e ricominciamo. Palla, 9 kg, target regola, giudice Marco Palana, crossfit 0,91. Pronto? Aspetta, posalo, mettiamo le tonoline, 3, 2, 1, tempo! Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti. 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 Vai cazzo, prendi sta palla. Grazie a tutti. Vai cazzo. Forza, forza. Vai 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 vai. Ha dovuto accendere. Forza, forza, forza. forza, forza. Dai 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 dai, cazzar stories da ragazzi,- Tira di più, forza. Vai giù, dai forte, dai 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 dai. Vai che arriva qui qua... Allora dobbiamo toglierne tre da questo totale, 10 calorie risultato finale, validato?